che era stato arrestato subito dopo le elezioni del 5 novembre e dopo la scarcerazione. Oggi il Tribunale del Riesame annulla per lui tutte le accuse e dunque tutte le misure di interdizione. Tutto cancellato come se nulla fosse accaduto, meglio come se tutto non doveva accadere. Il Tribunale del Riesame di Messina ha annullato le misure interdittive nei confronti di Cateno De Luca. Il deputato regionale arrestato subito dopo le elezioni del 5 novembre e dell'ex presidente della FENAPI, Carmelo Satta. Ad annunciarle è stato lo stesso Cateno De Luca con un video postato sul suo profilo Facebook. Mi hanno chiamato in questo momento gli avvocati, hanno depositato la sentenza del Riesame, hanno annullato tutto. A quanto pare l'arresto mio e di Satta è illegittimo. Non solo, ma ci sono stati restituti tutti i beni. Di conseguenza significa che il teorema della procura era un vero e proprio complotto. Ora vi saluto e nelle prossime ore vi darò i dettagli. Scarcerato quattro giorni fa dal GIP, Sud De Luca pendeva l'interdizione ad essa annullata a ricoprire ruoli apicali negli enti coinvolti nell'inchiesta per evasione fiscale. Annullati anche i sequestri per 1.750.000 euro. Una decisione che ha fatto scatenare l'onorevole Cateno De Luca e anche il suo collegio di difesa formato dagli avvocati Carlo Taormina e Tommaso Michalizzi. Se il neodeputato di Sicilia Vera, sempre da Facebook, annuncia che presto verrà depositata la terza denuncia contro la procura di Messina, pretendendo ispiezioni del CSM e del Ministero della Giustizia, in una nota i legali di De Luca attaccano i poteri forti, parlano di una mano nera che si aggira negli uffici giudiziari e ci vanno giù pesante quando ipotizzano il rischio che De Luca possa essere esposto ad un attentato mafioso.